Prima puntata di Play To Be Real, un podcast di One Station Radio. Io sono Adriana e con me c'è Livio Cori. Incredibile. Sono il primo, quindi. Sei il primo. Sei felice? Sono felicissimo. Sono onorato. Grazie. E noi siamo onorati di averti qui. Tra l'altro, Livio, quando io ti ho chiesto, vuoi venire a fare il podcast perché tu sei venuto qui a fare un'intervista per presentare l'ultimo pezzo in collaborazione con Federico. Con Federico Di Napoli, sì. Sì, che si chiama Mare Buccia. Io ne ho approfittato e ho detto, Livio, devi fare il podcast con noi. Ma poi mi piacciono i podcast. Esatto, e tu hai detto questo. Ti piacciono i podcast? Perché hai più tempo per parlare, per argomentare le cose. Cioè non è proprio, capito, da quell'intervista che comunque c'è quel tempo per rispondere. I tempi radiofonici. Diciamo che i podcast possono approfondire poi le domande, gli argomenti. Quindi io posso chiederti di tutto. Certo, sono qua per fare un podcast. Benissimo. L'ha detto lui, eh? L'ha detto lui. Ma sì, ma poi, vabbè, sono fatti tuoi. Senti, allora, tu sei nato, correggimi se sbaglio, è cresciuto nei quartieri spagnoli. Esatto. Che è un posto che io amo. Cioè secondo me è bellissimo nascere lì e capire veramente che cosa sono i quartieri. Quanto è influito nascere, crescere là, ma proprio nella tua persona, in Livio? Ma sicuramente tanto perché comunque tu sui quartieri vedi proprio Napoli com'è, proprio il cuore di Napoli. Cioè la vera essenza della città. E un po' diciamo che ti fa vedere poi, vabbè, i quartieri sono cambiati tanto nel tempo. Vero, soprattutto nell'ultimo periodo sono più turistici. Cioè non sono come prima, magari prima venivano considerati un quartiere a rischio, un po' pericoloso, magari non ci passavi. Ti dicevano guarda, comunque no, non passavi, magari i turisti non ci passavano proprio. Sì, è vero. Al di là che è un fatto che, penso proprio che i turisti non passassero a Napoli in generale, perché magari scendendo dalle navi o da, che ne so, gli aerei e tutto, andavano direttamente in costiera, magari si facevano delle tappe. Oddio, però sai, via Toledo è comunque una strada molto importante, ci passi, però magari vedi i quartieri, ti limiti a fare le fotografie all'ingresso e non ci entri. Però in generale proprio Napoli era già vista come meta, cioè la quarta meta da scegliere dopo Sorrento, Capri, Amalfi, queste cose qua. Invece adesso è diventata, eh sì, quindi ha cambiato un po' le cose, ma mi ha cambiato, mi ha costruito sicuramente, mi ha scolpito nel bene e nel male. Io ti vedo come uno di quei bimbi che scende giù, che corrono, urlano, giocano a calcio, danno le pallonate. Sì, 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 e poi l'ho fatto non solo sui quartieri spagnoli, io per metà sono cresciuto anche un po' dove viveva mia nonna, che è arrivata in Campegna, nella zona di Cavalleggeri fuori grotta, quindi ho vissuto un po', che pure è un quartiere abbastanza complicato, e quindi ho vissuto un po' queste situazioni di giocare a pallone, no? Senti, ma tu che ragazzo eri a scuola, a liceo? Quello là che non si applica, quello là che... Ok, quello intelligente, ma non si applica, siamo sicuri, o non si applica e basta. No, diciamo che le magie le facevo alla fine, cioè alla fine dell'anno, quando dovevo recuperare tutto, in un mese riuscivo a recuperare tutto l'anno. Cioè ero furbo a scuola, non ero bravo, però alcune cose mi piacevano molto, mi piacevo la letteratura italiana, quella inglese... Com'era in matematica? Matematica a zero, io ho fatto liceo scientifico, ma al Fonseca, però c'è proprio matematica a zero. Forse sarà stata colpa delle professoresse che ho avuto... Eh, guarda che... Forse l'ultimo periodo, l'ultima era un po' più carina. Ah, allora andavi meglio. Sì, perché la prima mi ha proprio traumatizzato, cioè la prima del liceo scientifico mi ha proprio... Invece l'ultima dovevi stupirla e hai imparato la matematica. No, beh, era simpatica, aveva un approccio diverso con me, invece l'altra mi aveva proprio puntato, cioè... E tu quando stavi a scuola, già avevi cominciato con la musica, hai cominciato a scrivere? Sì, per gioco, cioè nel senso, mi ricordo alle medie, in terzo, siccome sentivo... Ti ricordi la sigla di Willy, il principe di Belè? Certo. Ok, io provavo a fare... Cantala. Giocando a basket con gli amici sono cresciuto, me ne sono spassata. Ok, quel rap, insomma, che erano un po' i primi approcci del rap in Italia, no? Vabbè, ho fatto un po' così, no? E la nostra versione del rap è un po' la giovanotti, no? Sì. Erano un po' le prime cose che noi ascoltavamo. In realtà io avevo già ascoltato tanto rap perché mio padre mi comprò dei dischi... Cioè si comprò, credo, perché alla fine... Li comprò per lui e poi ti ascolta anche lui. No, in realtà sì, perché lui è sempre stato molto curioso. Quindi i primi dischi che ho ascoltato sono stati quelli di Jay-Z, Fifty... Ah beh, ottima cultura di partenza. Sì, sì, super. Però ascoltando, insomma, sempre la sigla, su quella ritmica lì, su quella metrica lì ho incominciato a scrivere le prime dime per gioco, no? Con i miei amici a scuola. Però ovviamente è una stupidaggia. Però lì è stata la prima volta che ho provato a fare delle rime. Però io volevo giocare a basket, cioè ero fissato con il basket. Cioè pensavi di fare sport? Sì, a me giocavo nell'NBA. Vabbè, potevi... Il playmaker. Eh, potevo fare il playmaker, ma a un certo punto comunque gli altri crescevano e io no. Però poi sono cresciuto, pure io, solo per giocare a basket a livello agonistico, diciamo che ci vuole un po' di più. Poi col tempo, siccome la musica praticamente nella mia vita è cominciata ad esserci più come ascolto che come, diciamo, cosa che dovevo fare. Perché non sentivo quella cosa di dire io devo fare il rapper o devo fare il musicista perché lo vedevo come una cosa così lontana, così impossibile, che non mi era nemmeno permesso sognare su questa cosa qua. Era proprio impossibile. Poi io non sapevo cantare, cioè non mi consideravo. Un cantante. Non sapevo perché non cantavo, cioè non sapevo cantare. Mi piacevano sempre tanto tutte le cose melodiche, anche i gruppi crossover, tipo Linkin Park. Linkin Park sono stati proprio, mi hanno sconvolto la vita. Sfondi una porta aperta. Vabbè, ma penso tutti, cioè nel senso... Si spera. E l'impegiskit, cioè comunque ascoltavo tanto di queste cose che non solo contenevano il rap come elemento, perché comunque Linkin Park aveva Mike Shinoda che rappava, anche se era gli aveva insegnato Chester. Poi è incredibile questa cosa, Shokan. Chester non ha insegnato a scrimmare a Mike. Esatto, no, ha insegnato a fare rap. Comunque, quindi c'avevo questa cosa che mi piacevano sia le cose melodiche che quelle rappate. Infatti poi nell'evoluzione della mia musica si è vista molto questa cosa perché io sono partito da rapper. Perché poi quando ho incominciato a giocare con le cose, con la musica, non sapendo suonare strumenti, cioè ho provato a imparare a suonare la chitarra da piccolo, ero autodidatta un po' sul piano perché mi piaceva, ma non... c'era una roba sempre da gioco, insomma, non è che ho detto... Ma si comincia giocando. Pensa che in terzo... no, sì, alle medie c'era l'ora di musica nel pomeriggio, attività extrascolastica perché era considerata una cosa extra. Extra. Ok, vabbè. Tipo il maestro mi disse, no, ma tu non sei portato. E mi disse, no, che fai tu fai il burdello e cose, no, non è cosa toglievo, ma... Si è ricreduto? Ma non lo so fino a che punto. È schifo quello che faccio. Ma non è vero. Però sicuramente, boh, un salrema l'ho fatto. Perché ti sottostimi così tanto? No, nel gusto probabilmente di questo maestro. Ah, ok, ok. E quindi, vabbè, da là ho cominciato a giocare con il rap, è stata la mia prima... il mio primo... superpotere musicale, quindi sono riuscito... Guarda che non è da tutti riuscire a scrivere innanzitutto delle rime, poi riuscire a mettere... a creare un beat. Prima poi è ancora peggio perché non era come adesso, diciamo che la musica urban è molto più accessibile. Non era ancora sdoganato come adesso, che magari il ragazzino diceva voglio fare trap. Vero. E poi, qual è stato? Qual è stata la prima collaborazione? Cioè, qual è stato proprio il... lo stacco da ci provo, comincio a scrivere e... hai incontrato qualcuno? Allora, io all'inizio, diciamo che... si è concretizzato un po' di più, però sempre a livello amatoriale, quando ho cominciato a conoscere le prime persone che facevano la mia stessa cosa, quindi un producer, il mio amico che faceva il DJ, eppure lui faceva rap, quindi abbiamo cominciato a registrare le cose, cioè non solo a giocarci. Però si è concretizzata molto dopo, cioè anni dopo, quando poi è diventato effettivamente un qualcosa che potevo fare effettivamente come... tra virgolette... Cioè tipo quanto tempo ci hai impiegato? Prima che qualcosa di tuo... Per esempio, io la prima volta che sono andato in radio era il 2013, credo. Ok. Quindi calcola che io la prima cosa proprio registrata, l'ho registrata nel 2008-2009, MySpace, quando c'erano quelle robe, insomma, strane, e usci su MySpace la prima cosa che feci. Però capito, era sempre una cosa da amici, così. Sì, ma ripeto, si comincia sempre un po' per giorno, no? Eh, c'è, dopo che parte devi partire. Adesso non è scontato, perché comunque adesso con i social improvvisamente puoi esplodere da un momento all'altro, invece prima comunque c'erano le radio, le cose, dovevi passare per certi fatti. Quindi quando non cominciai a essere apprezzato dalle radio, il mio pezzo cominciò a girare, alcuni singoli cominciarono a girare, tipo radio chississime, cioè per me era assurdo. Mi ricordo stavo a tavola con mia mamma e mia sorella improvvisamente, che noi ascoltavamo la radio, non guardavamo la tv. Ce l'abbiamo sempre... Bellissima cosa, bravi complimenti, perché è bello crescere così. Cioè a casa mia non c'è mai stata la tv, ora a casa mia, mia, c'è anche la PlayStation, però non ci giovano. Però ascoltavamo la radio e quindi una sera, mentre stavamo cenando, il radio chississi passò il mio pezzo. Quale pezzo era? Si chiamava Mai, è un pezzo che non riprodurrei mai adesso. Però intanto era passato il radio. Si, si, era riuscito. Reazione, reazione a caldo di quel momento. Emozione, perché mia mamma già non ci credeva. C'è stata molta emozione. È stato bello. Si, si. A casa tua, per esempio, com'è che all'inizio vedevano questa cosa della musica? Ma perdere tempo, ovviamente. Cioè mia mamma, secondo me, finché non è venuta a Sanremo, non ci credeva. Non ci credeva. Che diceva comunque, cioè vedeva la difficoltà, perché comunque non è facile, cioè è un percorso difficile. mantenersi, cioè fare musica o sei pazzo o sei ricco. Ok? Quindi... Tu sei pazzo? Eh, penso sì. Sei ricco? Comunque mi sono buttato. No, ma altrimenti... No. Avrei fatto... Avrei gestito ancora me. Però, diciamo veramente, ti ci devi buttare in... Cioè al 100% se ce la vuoi fare. Difficile. Poi se ti va di culo, bene, ma... se proprio vuoi riuscire devi lanciarti per bene. Cioè non puoi fare quello, poi un'altra cosa, l'università. Ci sta. Io vabbè, dico a tutti, finite gli studi, però è difficile perché se non metti il 100% in qualcosa che ti riesca bene è proprio difficile. Ad oggi molti ragazzi cioè sordiscono magari all'età appunto di 20 anni e non studiano perché si dedicano a quello. Se te lo puoi permettere, sì. Anche perché, cioè, in generale, poi io consiglio sempre di andare a lavorare piuttosto che perdere tempo all'università. Io per esempio... Ottimo consiglio, veramente. No, ma perché io ho sbagliato, per esempio, io non gavavo a meno, volevo fare l'università perché era una cosa che mi dava un profilo ma alla fine non mi serviva niente perché non ero portato per quella... Cioè se tu non sei portato per una cosa non devi perdere tempo a farla. Non la devi fare. Perché perdi proprio... Magari tu riesci a trovare un lavoro che inizialmente ti può sembrare una cosa umile e tutto poi magari sfondi perché veramente sei portato per quella cosa e la porti a un livello enorme e riesci veramente a trovare la fortuna nella tua vita ma indipendente dal fatto che sia una laurea oppure che... Donato che fa con mollica o senza Ciao Donato, salutiamo! Ciao Donato, saldiamo! Ciao un grande ha trovato il... Perciò dico l'esempio è questo poi c'è chi chi dice è giusto non è giusto vabbè ma sono cazzate per trovare la propria strada però se ti piace una cosa la fai con passione sicuramente ti esce bene è inutile perdere tempo farsi guidare da... Qual è stata la prima collaborazione importante? Con un nome grande? Unto, credo sì la prima è stata Unto di Cosang poi ho fatto poi Luque Gaemon ti dico in ordine sì Luque, Gaemon Freddi Palma Mino D'Angelo Neffa poi tutti i rapper insomma i nuovi però ti stavo dicendo quelle storiche Samurai J Denso Dog tutte le... però diciamo la prima proprio è stata è stata Unto cioè la prima per me grossa perché per me era il rapper più più forte in assoluto come è stato rapportarti a loro? cioè collaborare con loro? con To facevo parte della crew Stirlpono all'inizio bazzicavo un po' con loro quindi già avevo un rapporto nessuno dei miei featuring è nato da un così una cosa discografica tipo facciamo il pezzo perché mi serve cioè c'è sempre stato un rapporto con gli artisti con cui ho collaborato e quindi in quanto già avevo questo rapporto abbiamo coinvolto in un brano e pure con Luque perché comunque lo conoscevo bene già all'epoca con Gaemon? Gaemon facemmo delle date insieme in un tour di Red Bull io ero super fan all'epoca ero lo ascoltavo tantissimo perché comunque un rapper fortissimo e quindi ci trovammo in delle situazioni comuni e nacque questo questo film poi facciamo pure Sanremo dopo ci troviamo sullo stesso anno Sanremo Sanremo era l'anno 2019 tu ad esempio hai i tuoi musicisti esatto tu ne conosci uno ne conosco uno tra l'altro è bravissimo veramente un musicista bravissimo ecco con loro che tipo di rapporto hai? uno mi ha prestato la macchina per venire qua e l'altro è quello che conosci saluto a Leo che ha permesso questo podcast grazie Leo perché sto aspettando una nuova vettura nel frattempo Leo ha detto prendi la mia ok quindi siete amici c'è uno scambio di idee c'è un vabbè Simone e Ita quello conosco ormai da 8-9 anni cioè tanto comunque col tempo si è instaurato pur in un rapporto di amicizia oltre che alla alla questione lavorativa spesso mi trovo cioè ci troviamo a parlare di cose nostre molto intime cioè molto riflessive confrontarci anche su cose che non appartengono la musica perché poi anche quella è musica perché poi quando tu scrivi un disco o qualsiasi cosa anche componi musica è tutto un risultato di quello che poi tu vivi quindi in studio c'è anche un momento dove magari ti racconta cose si fanno viaggi mentali cioè nel senso stai lì e ti racconti magari a chi sta con te episodi cioè è bello non parlare solo di musica perché se no non puoi fare musica se parli solo di musica diventi diventa troppo un lavoro troppo una cosa ottusa sì esatto diventa un lavoro che poi alla fine non deve cioè deve essere che ti prendi sul serio però comunque è l'approccio è diverso è artistico che è un'altra cosa è vero bisogna pensarla in un'ottica diversa e viverla molto più apertamente anche se non è facile spesso quando diventa un lavoro non è facile cioè io ho avuto molte difficoltà su questa cosa cioè non a volte non riesco a prendere con leggerezza determinate cose perché appunto le ho sempre viste come un madomo devo fare questa cosa che è importante perché ecco anche il sistema discografico ti mette poi sempre in competizione con gli altri cioè una cosa che secondo me cioè malata perché la musica l'arte in generale non è una competizione lo sport può esserlo ma l'arte no tu non è che devi fare a gara con un altro artista tu semplicemente devi esprimere come se tutti quanti volessi urlare sempre più forte per farsi sentire di più alla fine non si capisce niente cioè non esce veramente quello che uno vuole dire vuoi semplicemente urlare c'è mai stato un momento buio in cui quanto forse ci sono questo vabbè non lo dico solo io ma penso l'ho sentito veramente da tanti grandi artisti cioè i momenti bui sono forse sono a volte di più no perché comunque tu quando sei in un momento cioè quando tu fai questo prendi questo percorso dai voti comunque è un percorso difficile non solo a livello sociale perché poi non ti prendi mai nessuno sul serio cioè ma che fai musica e poi anche quando ti vedono ecco in televisione tu subisci questa cosa quando no vabbè adesso è normale cioè ma c'è tutto un cioè quando riesci a superare un livello è normale che poi è difficile che ti c'è ma poi cioè qual è il tuo perché vieni riconosciuto ecco è triste dover per forza entrare in certi meccanismi per essere riconosciuto artisticamente perché magari hai fatto quello sempre no magari ci lavoravi pure già un po' però ovviamente poi non tutti conoscono bene cioè le persone che ascoltano la musica magari non sono fissate come siamo fissati magari noi che ci lavoriamo non hanno i mezzi per capire quando una cosa è seria quando una cosa non lo è quindi vedono semplicemente la consacrazione tramite i media la tv insomma mi sembra che ce l'hai fatta così eppure c'è tanta gente che gira in questi in questo mondo della tv e della radio quello che è comunque non ce l'ha fatta perché c'è tutta una finzione ma anche chi per esempio la fama da social cioè mica tutti quelli che tu vedi che ci hanno centinaia di migliaia di follower si campano quindi per te è questione di fortuna quali sono gli elementi fondamentali per farcela ma secondo me più del talento vince la costanza cioè se tu hai veramente la testa dura riesci più di chi ha talento perché il talento è come quando uno gioca a calcio ci sono un sacco di giocatori talentosi che non ce l'hanno fatta perché semplicemente entrano nella capa quando diceva quello non c'era la testa però quando tu veramente ne hai bisogno quindi diventa una necessità proprio tu non puoi farne a meno quindi tutti i giorni tu stai con la testa là dentro cioè diventa una malattia e riesci perché sei costante qual è stata l'esperienza più bella lavorativamente se c'è anche un aneddoto che ci puoi raccontare qualcosa di super bello questa intervista è il momento più alto dai dai ti ho detto che mi avresti messo in difficoltà dai dai ecco questa è la prima dai questa è la tua questa è la svelo dopo questa è la svelo dopo raccontando va bene oddio il momento ce ne sono tanti non è solo uno però vabbè normale che è il momento magari più alto della mia carriera fino ad essere Sanremo quindi è un'emozione che non è facile poi hai accompagnato una voce importantissima per la nostra città ma per l'Italia intera esatto in realtà come dire ci siamo per me è stato un momento veramente importante perché poi lì ci siamo trovati lui è un maestro però sullo stesso livello cioè per dire parliamo di Nino D'Angelo chiaramente parliamo di Nino D'Angelo anche mi ha permesso ovviamente di fare Sanremo Big altrimenti stavo a fare giovani ancora perché vabbè la storia che io l'ho chiamato per questo featuring nel mio disco e poi la questione di Sanremo è nata dopo ti ha risposto innanzitutto sì ma avevo un asso nella manica cioè Caterina Caselli che era il mio discografico ah ok quindi tra caschetti biondi si intende si capiscono ho detto senti ma dove sei un caschetto biondo no in realtà mi avevano chiesto la mia discografica mi aveva chiesto ma non fai featuring questo disco il mio primo disco io non prevedevo featuring siccome si chiama Monte Calvario quindi era il nome del mio quartiere il punto di partenza insomma volevo raccontare un po' dove partiva tutto ho pensato devo chiamare il re della mia città no? della cultura partenopea e ho pensato Nino D'Angelo ovviamente perché per me è il più grande artista adesso in vita poi vabbè c'è Pino Daniele comunque il quale sono grandissimo fan però Nino rappresentava appieno tutto cioè rappresenta appieno Napoli e quindi ho detto scherzo insomma ah Nino D'Angelo proviamo come proviamo lui che non collabora con nessuno perché poi al di là dei suoi progetti non fa collaborazione però ci abbiamo provato lui mi ha voluto conoscere mi ha detto sì mi ha voluto conoscere quindi prima ci siamo conosciuti siamo diventati i primi amici e poi abbiamo collaborato e lui poi ha ascoltato il pezzo che ha proposto e come è stato vivere Sanremo con lui era lui che dava sembravamo Totò e Peppino a Sanremo a Sanremo una cosa incredibile è stata perché poi ecco vivere Sanremo già è incredibile viverla con Nino D'Angelo è pazzesco tu vedevi Ramazzotti Maestro Venditti Maestro quindi Nomi Elisa che si fa la foto cioè capisce effettivamente che che importanza ha no e quindi stare a fianco a lui su un parco del genere è una bella responsabilità cioè lui diciamo che ha voluto fare questa cosa per me e per Napoli per la per la cultura della musica napoletana perché lui vedeva in quel pezzo un un qualcosa di nuovo no nella melodia partenopea ci ha creduto sì lui ancora oggi mi dice che quel brano è stato uno dei più azzardati che ha fatto nel suo percorso anche perché veramente lui non c'entrava niente quell'area in visa in follow five poi si è messo in discussione però lui ci ha trovato si è trovato dentro a questa cosa cioè ha trovato un po' di sé anche in questo e anche in me quindi abbiamo avuto questo punto d'incontro e poi ci ha fatto rimanere molto legati ancora adesso e abbiamo un rapporto bellissimo veramente sono onorato di avere questo rapporto mi sentite andate a cena fate braciate sì no braciate no oddio perché vabbè calcola che Nino è sempre molto molto impegnato quindi ci becchiamo poco ma quando ci becchiamo cioè ci sentiamo spesso proprio perché lui sta a Roma e ci sentiamo costantemente perché lui mi chiama anche per sapere come sto cioè non perché a volte mi chiama tipo come ho già fatto questa cosa con Instagram come si come si e tu gli insegni sì l'ho seguito molto sui social sei diventato il social media manager e poi poi c'ha comunque un affetto ai miei confronti che sai mi considera però sai io ho sempre detto vabbè mi considera come un nipote però invece lui dice no no noi siamo amici cioè tu sei l'amico a me capito e questa cosa ti gratifica tanto ma io non è una cosa che secondo me ho ancora realizzato cioè non mi rendo perché a volte ci rendiamo conto delle cose che succedono cioè io tuttora il fatto che di Sanremo non vedo i video a volte me li fanno vedere mi imbarazzano perché cioè non riesco veramente a pensare di essere arrivato ti svelo una cosa vai che probabilmente non ho mai detto io tutto questo secondo me non dovevo manco farlo cioè io non era una cosa che era faceva parte del sai del mio destino perché non ero il ragazzo che voleva fare musica con la chitarra in mano quindi cioè questa cosa è già tutto quello che già è successo è già tanto per me cioè veramente tanto io non pensavo cioè nella mia mente determinate cose non riuscivo nemmeno a immaginarle capito quello che ti dicevo all'inizio per me venendo da da un certo mondo immaginarsi di fare poi delle cose che poi a volte magari alcuni sembrano sì ok vabbè ho fatto tariffo molti hanno fatto tariffo però per me è una roba enorme perché non era proprio nei miei piatti magari ci sono persone che hanno fatto Sanremo perché avevano come obiettivo fare Sanremo a me non mi era proprio permesso di pensare di poter fare Sanremo di poter fare musica perché io non avevo un talento nel fare musica e tu credi io ho avuto più sono stato più come dire costante e fissato su questa cosa di volerlo fare piuttosto che talentuoso nel farlo poi una cosa che ho affinato col tempo io non sapevo cantare ci sono tanti artisti tanti artisti non solo cantanti anche attori che magari meno bravi tra virgolette ok tra virgolette non è il tuo caso cioè non si parla di bravura talento si parla ecco di essere sono sempre stati costanti come hai detto tu perché a volte è quello la costanza rigare dritto è la passione è la passione che supera magari si supera persone talentuose che forse credono di avere troppo talento e lo sfruttano in malo modo allora per esempio nel caso della musica le emozioni che ti danno anche due note rispetto a tutta una serie di capriole fatte magari su una chitarra per esempio suoni il basso si ci sono dei giri basso che magari ti emozionano di più in maniera molto semplice dei giri basso molto semplici che però ti entrano di più oppure dei cantanti che magari non ci hanno questa voce incredibile lo stesso rino d'angelo non è che ti ci canta come Gigi Finizio che c'ha oggi incredibile nel panorama napoletano oppure altri però ha quella è un cantante notevole ma ha quella emotività nella voce quella passione cioè quella roba che ti ti distrugge no su delle cose molti artisti hanno questa cosa qua non hanno una grande voce pensiamo pensiamo a Lucio Battisti esatto Lucio Battisti per esempio grande esempio a livello nazionale lui era sicuramente un cantante particolare aveva un libro particolare ma non era il più grande cantante un grande interprete esatto poi c'è anche da dire che non era un cantautore quindi doveva per forza puntare sull'emotività della voce no sua questo per esempio è un elemento che ti fa capire che non serve semplicemente il talento capito innato e ti dà Dio però secondo te questa cosa che hai detto c'entra anche una bassa autostima che hai di te ma io vengo dalla città che ti fa credere di non farcela cioè proprio di base io penso che tutti quanti penso che siamo d'accordo un po' tutti no chi viene dal sud in generale c'è proprio abituato a pensare per noi è più difficile sì che abbiamo delle possibilità in meno devi andare a Milano per fare questo devi fare questo allora se già lo senti dire da piccolo un po' ti rimane in testa quindi già cresci un po' questo fatto però noi a Napoli sai però a Napoli non ci sta questo non ci sta quella crealo cioè fallo tu devi essere tu il punto di partenza cioè se tu sei veramente totalmente fissato con una cosa la fai perché non c'è niente che è più forte della forza della volontà quindi alla fine molte sono scuse perché magari sì ok Napoli ti sta stretta prendi una valigia vattene dormi su un divano dormi su un ostello prenditi quello che ti devi prendere e portalo a Napoli io ho fatto così cioè io quando sono andato via da Napoli l'ho fatto proprio così a caso dove sei andato? a Milano perché veramente poi Napoli non ti offre qualcosa allora vatti a prendere quella cosa e poi portala qua ma per te è stato semplice perché no ecco spieghiamo questa cosa perché andare lì soprattutto Milano è una città complicata è vero che costosa costosa ti dà opportunità tantissime opportunità il triplo il quadruplo di quelle che abbiamo qui però bisogna trovare veramente il modo di starci e di crearsi questa opportunità sì ma vogliamo sapere tu come hai fatto io ho preso un treno e io avevo una mia prima manager che ho cominciato a farmi vedere a Napoli cioè senza partire che non avevo proprio i soldi ad andarmi a vivere a Milano non li ho avuti nemmeno andando a Milano nel senso io ero ospite mi avevano ospitato quindi dormivo su un divano ma per la gran parte la maggior parte del tempo sono stato a Milano ospite cioè non pagavo un affitto non me lo potevo permettere tipo per quanti mesi? anni è durato anni io sono tornato per Giragomorra qua è una cosa è stata molto lunga è stato quasi tre anni avanti e indietro per Milano quindi e ho conosciuto persone ho legato con artisti situazioni ho creato la mia rete a me non mi ha mai dato niente nessuno cioè non ho quell'artista che mi ha spinto e a Nino D'Angelo ci sono arrivato che già c'avevo il contratto con la Caselli altrimenti non potevo neanche parlarci con Nino D'Angelo non è scontato cioè su questo per esempio sono molto fiero di me cioè non tanto sul fatto di dire sono un cantante incredibile la penna più forte di tal no sicuramente c'è chi è più bravo di me però sicuramente sono stato molto bravo a sapermi muovere autonomamente con le mie forze senza avere cioè senza comprare cose pagare purò che non è un loro budget calcola che diciamo la cosa che mi ha cambiato un po' tutto è stato Gomorra quando ho fatto il pezzo per la conona sonora di Gomorra io stavo in un momento di down che dissi se non va bene quest'anno mollo con la musica che è successo molto spesso questa cosa in quel periodo e stavo a Milano e il secondo singolo lo andò bene perché il primo singolo con Gaemon era in top 50 radio fece prima in classifica su MTV quindi mi sembrava già una cosa reale no la musica e quello dopo lo andò bene e io stavo a Milano e dissi ma che faccio poi improvvisamente uscì Gomorra mi chiamarono per entrare nel cast di Gomorra come Scunizzo di Sangue Blu nella terza stagione e io mi menai ma soprattutto per per metterci la colonna sonora cioè per metterci un pezzo e scrissi surdata che poi è stato il pezzo col quale io ho firmato con Sugar però lì tutto quello che avevo guadagnato sul set cioè tutto quello che guadagnavo da da attore diciamo bestemmia gli attori sono altri l'ho investito nella produzione di quel brano quindi sono andato a Londra a Tommaso Colliva ho toccato un Grammy per la prima volta dal video che lui ne ha vinto uno è uno degli italiani con i Muse mamma mia ho fatto un video che mi è costato 5.000 euro che per me era tutto quello che avevo quindi ho preso tutto quello che avevo che avevo guadagnato e l'ho investito l'ho investito in quello che era insomma quel brano quello che poteva fare quel brano ho detto se non vamo non c'ho un'altra cartuccia cioè c'ho solo un colpo ok hai giocato quello e l'ho beccato però l'ho beccato in fronte l'hai beccato nel segno perché se no oggi non saresti qui sto scherzando chiaramente è stato quella la cosa che ha cambiato un po' tutto ho firmato un contratto discografico e ho cominciato a fare veramente questo a livello serio dove magari sicuramente stavo sempre in sbattimento perché non è che avevo firmato il contratto multimilionario però era già il mio lavoro la partita IVA queste cose cioè capisci tante cose che poi ti fanno crescere ti fanno diventare un uomo non più un ragazzino in questo ambiente e da là poi è cominciato un po' tutto hai avuto coraggio secondo me sì ma più che coraggio ho avuto appunto questa follia di buttarmi in questa cosa che devi veramente non devi avere paura di di cadere di farti male perché sono perché tu cadrai sicuramente ti farai sicuramente male però se non ci pensi è meglio perché magari devi ripartire sì sì ma molte volte è capitato quel momento di down quel buio se mi fossi fermato probabilmente non va perciò prima hai detto sei pazzo o sei ricco esatto perché diciamo che se tu non hai problemi economici continui sempre a fare la musica che ci provi sempre ci provi sempre singoli tanto comunque il tuo fatto e ti puoi dedicare all'arte altrimenti tu devi andare a lavorare cioè come fai io mi ricordo che chiedevo a Frede Palma quando stavo a Milano che lui già aveva successo e se Frede ah c'è qualche amico che ha un negozio che ne so di sneakers vado a fare il commesso là e lui perché all'inizio c'era proprio questo il mood cioè stare a Milano voler stare a Milano voler guadagnare magari facendo anche altro però restare là perché tu devi stare là a un certo punto per conoscere tu cioè l'Azza tutti io li ho conosciuti a Milano li frequentavo perché potevo potevo girare lì è importante crearsi una rete sì cioè ti cambia tutto quasi tutto a meno che non c'è qualcuno che provvede a te e che lo fa per te lo devi fare tu però io non l'ho fatto in maniera cioè che mi seguivo le persone io le volevo conoscere cioè sono loro che hanno siccome frequentavo determinate situazioni perché ero già ben inserito magari a livello di sponsor già avevo Red Bull come sponsor cioè mi ero già mosso bene da Napoli frequentavo delle situazioni li ho conosciuti e loro cioè non è che gli sono andato vicino oh bro facciamo il pezzo ma senti questa cosa mia mai fatto questo è proprio l'unico è il modo per farsi odiare con tutti ascolta la pennetta e quindi come si fa? e quindi semplicemente devi essere te stesso se alle persone mi piaci entri in un in un cerchio magico altrimenti no perché se tu sei finto si vede poi c'è chi è veramente bravo e paraculi proprio che vanno in giro a a cercare di di prendersi il più possibile a fare storie cioè io non ho mai cacciato il telefono per fare una storia con uno più famoso di me perché secondo me c'è una gerarchia in queste cose cioè lo deve fare lui se ha voglia proprio tu magari la riposti si può essere un gesto ma che tu cominci a fare quella cosa si in quel momento che non sai se è genuino o no magari tu vuoi fare quella cosa perché vuoi fare views vuoi fare like invece io questa cosa l'ho mai fatta quindi la gente quando aveva a che fare con me ha sempre pensato che se non sta facendo perché gli servo cioè stavano a che fare con me perché magari ci divertiamo perché veramente era così io frequentavo Mike I Snob che poi abbiamo fatto Sanremo con il quale sono ancora Fred a volte ci scriviamo Lazzamo mi ha invitato cioè io a Lazzamo mica io ho chiesto il pass del suo concerto lui mi ha scritto quando è venuto a Napoli sì che ti ha detto cioè mi ha detto bro stasera suona il palapartento ma certo hai da fare però c'era quindi la differenza è quella perché magari molti infatti Lazzamo diceva in una cosa su una storia su Instagram mi chiedete tutti quanti il passo magari se avete amici mi chiedete tutti quanti il passo per venire al concerto e poi non venite pure ma cosa che mi è capitata pure a me quando ho fatto il concerto mi chiedete gli accrediti comunque gli accrediti sono numerati uno deve e poi magari non vieni perché c'è un'altra cosa non me lo chiedere cioè chi mi chiede a fare Lazzamo diceva questo io non avrei mai chiesto il biglietto a Lazzamo o l'accredito al massimo l'avrei comprato quella sera vabbè c'era tutto bloccato per il Napoli che probabilmente avrebbe vinto lo scudetto qual è la prima contro la Salernitana no era Udinese mi pare quando giocava la Lazio sì contro la Salernitana la Lazio ha giocato a mezzogiorno Napoli-Salernitana no aspetta che sto dicendo che giorno era il concerto di Lazio vabbè comunque stiamo in Napoli bloccati ok fatto sta che stiamo in Napoli bloccati io gli ho detto come vengo io lo so mi ha detto guarda io te l'ho detto però lo so che ci sta questo problema infatti non sono riuscito a nulla ma scusa però a piedi a piedi a piedi tu dove vivi adesso io sto a Bagnoli ah tu sei a Bagnoli no io pensavo che poi fosse ancora i quartieri no 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 è a piedi dal Palapartenope cioè è un casino sì no comunque era ma tu hai capito il casino che poteva essere sulle strade vabbè non era proprio la serata adatta c'era quella sera ecco quindi non era proprio la serata adatta quindi quindi il fatto sta proprio nel non dire oh fra così ti fai la storia là nel privé cioè nel camerino io questa roba la odio lui che è una persona incredibile perché veramente Jacopo cioè Laza è veramente uno un grande perché ha la testa prima una brava persona poi un bravo artista brava persona poi questo lo possono scegliere ognuno però sicuramente è un grande professionista ed è uno che non si è montato poi la testa per quanto lui voglia fare il tipo sai che va anche nei pezzi però vedi il pensiero di dire fra stasera sono al Palapartenope vieni è carino cioè chi io lo so che sbattimento c'è dietro un concerto figurati un concerto al Palapartenope nel momento più alto della tua carriera dopo che sei quasi tu il vincitore di Sanremo e questo è da apprezzare perché io nei suoi confronti sono sempre stato limpido e onesto come vivi l'amore? ma c'ho oddio perché allora entriamo nello specifico della domanda no ma sai perché è una domanda molto vasta perché l'amore è un sentimento molto vasto cioè io senza amore non potrei svegliarmi la mattina perché l'amore è un amore cioè per tutto c'è amore quindi tu magari volevi dire rapporto sentimentale amore certo perché l'amore l'amore in generale poi arrivare l'amore in generale lo metto in tutto quello che faccio perché è fondamentale cioè non potrei scrivere canzoni senza fare riferimento a questo sentimento cioè è veramente il cardine di tutto non è scontato perché magari ci sono anche molti pezzi centrali sull'odio però io sono un po' più sentimentale magari il 70% della mia produzione è amorosa sentimentale è romantica diciamo sono quindi tu pensi non è che pensi tu senti e scrivi sì assolutamente io diciamo che mi baso molto sul mio vissuto sulla mia esperienza quindi tutto quello che scrivo è esattamente quello che vivo non ho mai lavorato di fantasia ho sempre ricercato nei miei pensieri nelle mie esperienze quindi sicuramente la vita che vivo è la cosa fondamentale per la produzione noi quando siamo insieme ad una persona siamo sempre quasi diversi da come ci vedono gli altri quando stiamo senza quella persona nel senso che siamo delle persone in coppia e magari a volte siamo completamente diversi quando non siamo in coppia a te succede questa cosa oppure no? sì perché magari determinate persone sbloccano una parte di te cioè quando entri in un rapporto sentimentale l'altra persona quando è veramente un rapporto d'amore i pochi fortunati riescono a avere questa riescono a trovare questa cosa magari l'altra persona ha una chiave di una parte di te che tu magari non conoscevi nemmeno ne so e entra e ti ti apre questa cosa e tu è normale che cominci ad cioè ad avere questo superpotere in più sicuramente sarà diverso rispetto a come la sera quando c'è di quegli amici può darsi o cambi in generale totalmente con tutti o magari solo nel rapporto solo con col tuo partner nei momenti intimi solitudine magari a casa tipo quei nomignoli che si danno capito che però hai paura esatto però non dici in pubblico perché ne ti vergogni piccola non mi dire che chiami le tue non le tue ragazze la tua ragazza la tua ex ragazza insomma la tua la tua lei piccola piccola no piccola mi sa di ecco piccola mi sa di 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 pessima traduzione dici piccola ecco vedi meglio di no baby si piccola no baby baby fa molto rapper del ventunesimo secolo esatto ci sta poi baby come va diciamo non no quando sei in una relazione insomma poi scegli a seconda della cioè si creano non è sempre lo stesso la mia ex mi chiamava così ora mi chiami anche tu ma tu come sei cioè dici di più come sei tu con le ragazze quando veramente ti piace una persona pensi di cambiare totalmente quello che sei cioè ogni persona chiaramente a sé ti dà qualcosa di diverso però sei un tipo sì dobbiamo entrare Livio eh sì non sono mai stato cioè non ho mai recitato guarda sai cosa avrai solo la verità da me perché tutto quello che io lascerò capito ai posteri deve essere solo la verità non bisogna mai capito come dire interpretare quello che dico in maniera diversa da quello che è perché voglio che che effettivamente la gente sappia io come sono fatto quindi non ti dirò sì ma dai sono una ragazza quando si innamora si dedica cioè sei un po' psycho sei un po' folle no io amo riesco molto a entrare nella parte sentimentale sono molto emotivo però a volte è un problema cioè non riesco a superare mi fido poco sono molto più incentrato su sono molto altruista cioè cerco sempre di metterti a tuo agio anche a discapito della mia della mia tranquillità pensi più a come sta l'altra persona che a te perché poi a volte mi molto spesso mi sono annullato perché sono molto anche con gli amici cerco sempre di farti stare bene quindi però non è non è proprio sana questa cosa da un certo punto di vista prima lo facevo di più adesso un po' di meno però comunque secondo me non sono non sono ancora entrato come vorrei in una relazione per come la immagino io cioè a condividere tutta la mia vita con quella persona capito ho sempre bisogno dei miei spazi del mio del mio cioè poi magari è così perché io sono fatto così poi non lo so perché non te lo so dire rispetto agli altri però io ho bisogno del mio mondo dei miei momenti della mia anche di solitudine non è che devo stare oh devo scendere con i miei amici devo fare il pazzo no io devo stare anche da solo in studio a casa a non fare niente ma sapere che quello è il mio spazio e io lo gestisco esattamente come voglio perché io penso che per condividere la vita con qualcuno tu devi essere veramente al 100% appagato con te stesso e devi riuscire a a non aver bisogno di nessuno per essere felice e io penso di non essere ancora arrivato a quel livello di illuminazione no e ci sto lavorando quindi nel frattempo è difficile legarsi a una persona e dedicarsi completamente al rapporto con quella persona perciò a me i rapporti riescono in maniera un po' difficile cioè devi veramente amarmi tanto per stare con me perché rompi le scatole no perché io sto cercando ancora io mi sto ancora cercando sto ancora cercando di completarmi e io vorrei darti il massimo di me bisogna arricchire e non completare l'altra persona io molto spesso mi sono sentito esatto cioè io voglio stare con una persona che non è che ha bisogno di me ma che cioè noi insieme siamo qualcosa che è in più ma noi già da soli siamo siamo bene sei tu quello che si lancia o ecco no sono cioè tu non quando è stato l'ultima volta che sei stato tu ci ho provato con una sì mamma mia oddio ci ho provato ci ho proprio provato oddio oddio ma a metà forse non lo so metà cosa a metà no cioè provarci non è tipo e bevi che fai cioè non sono il tipo che ti offre da bello e ti fa vorresti bere qualcosa adesso che ne so andiamo a cena è difficile io mi sento un cretino capito io sono molto cioè sono aperto ma sono poi timido in altre situazioni cioè mi ho paura di sembrare un idiota quindi l'approccio cambia da caso a caso io penso che tutti gli approcci che ho avuto io sono nati anche già da un rapporto che si è restaurato cioè nel senso magari può nascere da un'amicizia o da anche cioè non è che vedo una ti vuoi sapere esattamente questo anzi esattamente questo quello che vuoi cioè capita immagino tutte le persone che hanno avuto a che fare con me magari ascolteranno questa cosa adesso vedranno non è vero un sottone scrive sempre no molto spesso mi chiedono ma che a me cioè l'amore nelle tue canzoni finisce sempre male oppure sempre qualcosa di negativo sarà che forse sono quelle le emozioni che poi ti ti fanno bruciare di più nei rapporti almeno per me che non ho cioè fino a questo momento non sono mai riuscito a scrivere qualcosa che mi travolgesse completamente tipo oddio cioè ci sono delle cose molto romantiche però non non ho mai detto tu sia vita mia forever in un pezzo cioè non ho mai fatto quel pezzo super positivo c'è sempre un tocco di malinconia ce l'ho costante fa parte di te un po' blu un po' blu come le blue note esatto io ho fatto un pezzo che si chiama proprio blu che è di una malinconia tremenda però penso è uno dei pezzi più belli che ho fatto tu pensi che sarai sempre così stai cominciando ad avere paura di sì cioè paura tra virgolette perché comunque è vivere poi cioè ti rende ancora più vivo però sai uno magari vuole costruire qualcosa cerca di fare dei progetti però poi devi fare conti con te stesso appunto quando stai ancora cercando la tua dimensione quando vivi una missione no? come quella della della musica e l'arte è difficile perché cioè io sono veramente difficile su questo non magari che ne so appunto il mio maestro Jedi Nino D'Angelo o che ne so Neffa oddio Neffa un po' di meno Nino D'Angelo cioè è stato sposato per una vita cioè è sposato sempre con la stessa persona cioè c'è questa storia di amore perché lui ha avuto è una fortuna e non è facile cioè trovare la propria metà non è semplice magari passa una vita intera non la trovi mai non è detto che succede a volte molte persone si accontentano cioè se tu sei in una relazione sei innamorato ok bene vuol dire che l'hai trovata però tu ti devi tenere molto fortunato perché non è facile trovare questa cosa cioè l'amore è vero è una botta di culo perché non ci puoi manco lavorare perché non è una cosa che tu fai funzionare dici ok mi piace veramente una persona io mi applico proprio perché cioè ci lavoro su questa cosa e la faccio diventare amore vero no perché se no scatta c'è una roba che deve scattare ma non ci puoi lavorare tu allora l'amore ci deve assolutamente stare però la costruzione della coppia è una cosa cioè si sceglie di amare una persona giorno dopo giorno la base deve essere quella però non devi essere forzato non devi essere una fatica forzarlo mai può diventare in certi momenti è la vita faticoso perché le strade si possono dividere perché pensieri cambiano perché noi cambiamo ti faccio un esempio molto molto facile la passione della mia vita è fare musica cioè scrivere le canzoni nei momenti più difficili io ci ho lavorato per farlo per non mollare perché molto spesso ho detto io mollo cioè ho avuto i down è proprio un rapporto come se la musica fosse la mia ragazza ok io so esattamente cioè non ho dubbi io voglio fare questo ci sono altri invece che magari non lo vogliono proprio fare cioè magari sono mi piace fare musica ma non è proprio la loro missione quindi a un certo punto mollano perché non è amore vero perché l'amore vero anche quando questa cosa ti devasta e ti fa male tu continui a stare con la persona a volere quella cosa lì cioè a voler fare musica nel mio caso ok e ci lavori e fai quella cosa che dici tu che è cercare di farla funzionare make it work quella cosa che che dici ok lo faccio perché so che mi fa stare bene però se non parti dal fatto che tu sai esattamente che sei innamorato di quella persona o di cui sei innamorato della musica per dirti cioè devi prima essere sicuro su questo altrimenti puoi lavorarci quanto vuoi non funziona vero cioè può essere anche magari ti affascina l'idea di quella persona ti ritorno sempre sulla musica ti affascina l'idea di voler fare l'artista ti affascina l'idea di voler stare sul palco di avere dei like le foto le cose ma non ti piace fare musica magari potresti fare che ne so l'esperto di musica oppure il critico che ne so qualsiasi cosa che ha a che fare ma magari non è proprio fare la musica perché non è quello che ti crea cioè tu devi partire dal fatto che quella cosa lì ti completa al cento per cento è già anche se non c'è niente dopo ma già quello ti soddisfa io quando finisco di fare un brano sono estremamente appagato anche se non c'ho nulla anche se non c'ho una lira in quel momento però quella cosa lì mi ha sempre riempito tantissimo anche con con l'amore cioè quella persona al di là di tutto di quello che ha di quello che avete di quello che potete fare di quello che non potete fare anche esserci è direi che la parola chiave potrebbe essere costanza in tutto ecco come prima hai detto nella musica anche sapere senza nessuna nessuna domanda che quella è la cosa lì poi è normale che se la vuoi far funzionare ci vuole costanza e ci vuole lavoro però quello viene dopo cioè la base su quale si regge tutto è la sicurezza di voler veramente quella cosa lì quella persona lì vero altrimenti non si può costruire sopra verissimo allora ci sono dieci domande che ti devo fare ok dovresti rispondere sì no secchi ah ok però no possiamo anche argomentare un po' così facciamo due ore di podcast dai facciamo due ore di podcast vado vogliamo farla così veramente sì ok let's go hai mai tradito sì ok sei vegetariano no lo sono stato vegano per un qualche mese e basta è finito sì poi ho ucciso un bue mi ha morti ok credi degli alieni sì fai sport l'ho fatta per tutta la vita in questo momento poco tempo quanto fa 7x7 49 sei innamorato sì cioè per discorso di prima cioè dici di una persona sei innamorato cioè bella questa punto interrogativo sì ok sei fidanzato sì sei credente dipende da cosa cioè cosa credi in qualcosa sì ti piace il calcio sì hai mai fatto botte sì con chi hai fatto molte sono molte sono da argomentare però con chi hai fatto a botte non dirò quali no no te lo dico io con chi hai fatto a botte anzi quando hai fatto a botte perché ma qua molto spesso ok quindi sei un tipo che fa botte no per difesa per difesa per difendere perché ti vogliono picchiare per difendere no anche per difendere gli altri ok e pensi che sia una buona cosa non ho mai cominciato no assolutamente no io la violenza la ripudio totalmente però c'è quel momento in cui ti scatta cioè proprio si spegne la luce nel cervello si spegne ma non fare del male è una cosa che non mi appartiene proprio quindi te ne penti dopo se ne pentono gli altri big gym abbiamo qui no me ne pento mi sento in colpa ricordo una volta il giorno dopo c'è stato proprio male perché cioè vedermi in quella situazione mi mi fa tristezza no perché è una cosa triste però quando so che cioè almeno mi consola il fatto di di non cominciare queste cose capito non sono proprio il tipo anzi sono molto aperto al dialogo non non c'ho proprio non finirei mai non vorrei mai finire in una situazione del genere è proprio brutto vedere le persone cioè è bello magari sportivo tu dici però che alla fine si danno la mano e quindi è una questione sportiva ma il volere proprio fare del male a un'altra persona è proprio una roba brutta cioè è tremenda però perché la gente non conosce il male vero non riesci a fermarti no ma non riesco a fermarti non è che prendi uno spezzo il braccio a uno no 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 però dico rispondi a una proporzione rispondo perché è necessario perché poi diventi cioè non sono diventi vittima cioè devi devi difenderti però questo è un messaggio che passeresti cioè ragazzi difenderti difendersi proprio al limite deve veramente deve essere l'ultima l'ultima cosa assolutamente no cioè se uno ti dà uno schiaffo se uno mi dà uno schiaffo così all'improvviso io non è che gli do subito uno schiaffo che tu non mi fai cioè mi dai uno schiaffo non mi fai niente fondamentalmente non è che mi hai provato cioè non sono in pericolo però quando si attiva la cosa ti devo un attimo ti devo fermare non è che ti devo far male ragazzi non fate a botte no assolutamente no ma la violenza è una roba ma proprio in questo periodo storico cioè veramente stiamo già inguaiate mille cose che succedono che non dipendono da noi poi cominciamo pure a farci male cioè non esiste senti invece prima hai risposto ad una domanda sì sono innamorato sono fidanzato no al tradimento sì tu cosa pensi al tradimento? vabbè è una debolezza una mancanza di qualcosa cioè ti non sei soddisfatto della situazione in cui stai non lo capisci e quindi ti riusci e non più di prima dipende se capita vabbè quando l'ho fatto diciamo non ero molto diciamo non avevo non è non è una cosa di di adesso perché sono cresciuto rispetto a prima però diciamo è sicuramente mosso da da un'insoddisfazione o comunque da una ricerca ancora di di qualcosa di che devi devi mettere a posto con te stesso sai questa cosa qua però devo dire ci può può anche capitare anche se non lasci prima può capitare però magari poi alla fine cerchi di chiudere la cosa magari non ferisci l'altra persona però dici perché è successo ragioni e cerchi poi tu lo perdoni il tradimento la cosa che non mi piace è continuare dire ok io sto con questa persona poi la tradisco però continuo a starlo certo chiaro cioè per me quello è il tradimento proprio perché se se capita perché comunque siamo esseri umani non è che hai ucciso una persona capita però poi ti ragioni su questa cosa questa cosa ti ha fatto capire che magari tu non riesci a stare con quella persona cioè serve per poi lasciare andare quella persona che quella persona magari deve vivere la sua vita e ti serve è qualcosa che ti sarà servito poi per andare avanti che fa bene a entrambi certo ci sono modi migliori però la cosa che io proprio penso che sia evitabile è il fatto di avere una relazione portarla avanti e costantemente tradire dire io mi tengo la ragazza mia moglie così cioè non vorrei fare questa cosa ho paura di poi diventare una cosa del genere cioè non vorrei non vorrei tu un primo tradimento lo perdoneresti ma no se mi hai tradito cioè parliamo ne capiamo che non credo che lo non è che ti prendo e dico la merda cioè dico ok fammi capire che è successo poi normale ma io non sono tipo non divento cioè non devo capire è normale che ferisci un tradimento però ti chiedo perché poi chiudiamo ok però capiamo perché magari c'è un problema c'è una delle dei vuoti del lacune dell'incompatibilità tu cercavi altro ne parliamo bene è capitato sono stato anche io ho avuto magari delle situazioni dove ho scoperto delle cose no ci sei rimasto non era una relazione proprio non eravamo fidanzati però mi stavo frequentando una persona e lei frequentava anche altre persone bene però per me non è che dicevo però non l'ho fatto anch'io però capiamo c'è il senso vabbè poi era una modalità veramente assurda si cambia però capi cioè non è questo il male del mondo secondo me cioè senti Livio questi tatuaggi eh che hanno un significato profondo ne hai ancora altri quanti ne hai? eh non siamo in fascia protesta tanti no non ti spogliare almeno dici quanti ce ne ho anche sul corpo quanti ne sono? no non lo so non mi conto quando hai cominciato? a 17 anni 16 forse con questo in my mind il primo disco di farrell bello ce n'è qualcuno di cui ti penti? no non mi pento di niente ma in generale proprio come dei tatuaggi anche nella mia vita penso che tutte le cose che ho fatto le ho fatte per sono servite comunque a qualcosa anche quelle che che sono andate male delle scelte sbagliate comunque fanno parte di un'esperienza che ti porta poi dove devi arrivare ci sono state tanti tante situazioni che non sono andate bene che in quel momento mi hanno fatto veramente rimanere male ma senza quella situazione andata così non sarebbero successe tantissime altre cose quindi non sai mai se una cosa è veramente cattiva o no non tutti i mali vengono per nuocere seguo il flow sono molto taoista in questo momento trust the process una frase che dico sempre io per continuare si dice plus o plus? si dice plus allora questo vogliamo in commento se qualcuno può commentare dire tutto io sostengo che si dice plus perché viene da latino ultima domanda Livio che cos'è per te la felicità? sono dei momenti molto brevi altalenanti non esiste una felicità eterna esiste una serenità esiste una pace ma la felicità la felicità è bella perché non dura tanto cioè che tu la ritrovi ogni tanto quindi ci lavori per averla e tutto ma è un pendolo non può durare sempre pensa ad una vita completamente felice che palle dici ma sì perché la felicità una vita in pace è una vita che è un'ambizione giusta una vita costantemente felice ecco io ti do un'estrema felicità e tu non riusciresti a sentire dei pezzi che ti distruggono per esempio riusciresti a toglierli dalla tua playlist con un'estrema felicità cioè per esempio nella tua playlist non ci sono dei pezzi estruggenti riusciresti a toglierli dalla tua playlist no esatto tu non puoi togliere nella vita ti serve anche ti servono anche dei momenti bui ti servono perché per esserci la luce serve anche il buio per esserci amore serve anche l'odio per tutto serve l'altra parte quindi la felicità esiste perché esiste anche la malinconia il dolore tutte queste cose qua perciò tu apprezzi la felicità io spero di avere tanti momenti di felicità ma di avere più pace che felicità te lo auguro grazie grazie a Livio Cori ragazzi questa è la prima puntata di Play to be real si conclude qua che onore onorati noi ci rivediamo alla prossima puntata ciao